Al fischio finale di Arezzo Piacenza con il presidente Lacava c'è molta ammarezza perché sembrava una partita vinta, anche se chiaramente il Piacenza è una cosa fortissima, però in quel momento non c'erano segnali. Purtroppo la partita è girata in un certo modo, purtroppo sono storie che si ripetono spesso, però è così. Ricordiamoci sempre, come hai detto te, che rosa abbiamo noi in confronto ad altre rose di squadre che hanno fatto rose per vincere i campionati. C'era solo il segnale che la squadra a un certo punto si era creata quasi da sola una parola che non esisteva, perché la palla è diventata bollente improvvisamente. Lo so, infatti, oggi sono molto amareggiato perché dopo aver visto quel bel primo tempo speravo che oggi riuscivamo a vincere, però anche oggi è andata così. Trattamente abbiamo messo anche qualche difensore in più, cosa che non era accaduta altre volte. E quindi è così, questo è il calcio. Comunque è una classifica cortissima, può ancora succedere di tutto. Sì, vedo il Pisa dove sta, quanto stava indietro a noi, mi fa riflettere questa cosa. Il Pisa dopo che aveva perso qua, quanto era indietro? 7-8 punti, mi sembra. E quindi, vabbè, il calcio è così e che devi fare? Speriamo adesso che sabato prossimo, adesso ogni partita è una finale, però ecco, è un peccato perché noi siamo sempre stati là, nelle prime posizioni, adesso stiamo un po' scivolando e speriamo rinò. Senti, oggi era il giorno del CDA, si è eletto di un clima distensivo, confermi. Sì, sì, assolutamente distensivo e abbiamo preso atto, come l'altra settimana, delle dimissioni di Orgoglio Amaranto e della società di Massimo, però un clima assolutamente tranquillo e quindi andiamo avanti tranquillo. Quindi fino a martedì non si sa se ci sarà l'amministrato che è unico o se ci sarà un nuovo città? Sì, adesso, perché Orgoglio forse vorrebbe proporre un altro nome, chiaramente me lo proporranno e vediamo. È sempre un piacere avere i tifosi nel CDA, però adesso vediamo con tranquillità. Però, ripeto, la cosa interessante è che c'era un clima di serenità e questa è la cosa poi al di fuori del calcio, la cosa più importante per i rapporti umani.